È arrivata la prima sconfitta per la Carpegna Prosciutto-Pesero. Il primo KO da digerire viene servito in Piemonte dove i biancorossi perdono 81-73 contro la Bertram Tortona. La VL sbaglia completamente l'approccio e incappa in un primo tempo chiuso a meno 18. All'intervallo arriva la scossa con una rimonta straordinaria che porta fino al 71 pari, dopodiché Tortona riprende inesorabilmente il largo. Per Repesia questa volta sono mancate tante cose che diventano motivo di riflessione. Da nostra parte, da primo giorno, sto parlando una cosa per provare là con pieno orgoglio, che ha detto tutto che poteva fare sul campo. Come potevamo perdere contro Venezia? abbiamo vinto meritando perché meritavamo vincerla per approccio e energia e concentrazione e tutto quanto che abbiamo dato in quella partita. Oggi siamo tornati, ma esaurinti da punto di vista energia e onestamente non meritavamo vincerla. Aspettavo una partita così perché tutta la settimana si sparlava solo vittoria contro Venezia. Purtroppo non sono riuscito con tutta la mia esperienza metterli sui binari per essere concentrati contro un avversario straforte come Tortona. Amareggiati tifosi della VL, umiliati quelli della Vispesero che nel sentito derby di Rimini crollano con un mortificante 5-0 senza scusanti. Una bocciatura su tutta la linea che lascia tanti interrogativi tecnico-tattici, strutturali e motivazionali con una partita morte e sepolta dopo appena 25 minuti in cui Rimini segna quattro volte per poi calare la manita nel cuore della ripresa. Umore Vissino che è all'esatto contrario di quello che vive il Fano che balza in vetta la Serie D in compagnia di Avezzano, Pineto e Vasto Girardi. Leadership guadagnata dopo aver espugnato Vasto 1-0 con rete di Tomassini. Nel calcio a 5 trasferta Amara per l'Ital Service che a settimo torinese cade 3-2 contro la L84. Seconda partita casalinga e seconda vittoria invece per la Fiorini-Pesero Rugby che gioisce ancora al Toti Patrignani prendendosi 5 punti in classifica grazie al 32-6 sul Villa Panfili.